Alessandro dell'azienda Ciber, avete collaborato anche voi alla realizzazione di Stone City, in che modo? Noi siamo un'azienda che fa principalmente trattamenti antimacchia per le pietre, pulizie, smacchiature. Abbiamo collaborato facendo la pulizia al trattamento di quella facciata lì, un trattamento idrorepellente. Quali sono i vantaggi di questo trattamento? I vantaggi essenzialmente sono che la parete non si bagna quando piove, quindi non bagnandosi è protetta da eventuali muffe, salnitro e eventuali problematiche che ci sono in questi materiali. Benissimo, grazie molto. Grazie a lei.